Poi ci sono i comportamenti personali? Inutile riscaldare troppo gli edifici durante i mesi invernali come se si stesse alle Hawaii. Inutile rimanere imbottigliati nelle lamiere delle automobili quando l'alternativa del trasporto collettivo è molto più semplice. Sono tante le attività che ovviamente devono essere messe a disposizione di tutti i cittadini perché non tutti i cittadini hanno questa possibilità oggi. A livello globale invece? A livello globale serve smetterla di essere negazionisti come continua a fare Trump, ovviamente perché gli interessi delle fossili sono dietro alle sue azioni. Serve un Green New Deal europeo per far ripartire anche la locomotiva statunitense che è fondamentale su questo fronte. Ma è possibile conciliare crescita economica e riduzione dei gas serra in paesi come Cina o India? Il protagonismo della Cina sulle tecnologie pulite ci lascia ben sperare.